Il gentil sesso si è reso protagonista dell'ultima donazione sociale in ordine cronologico a presidio ospedaliero Vittorio Emanuele. Le donne della sezione locale Soroptimist Club, presieduta dalla professoressa Giussi e Argento, hanno consegnato questa mattina 180 mascherine di tipo chirurgico, rimarcando il loro impegno verso il sociale in particolar modo, nei confronti della struttura ASP del rione Caposoprano. La consegna è avvenuta presso la direzione dell'ospedale di Via Palazzi, alla presenza di due socie illustri Soroptimist, rispettivamente Valeria Cannizzo, vice direttore dell'ospedale, che ha fatto gli onori di casa, e Anna Maria Longo, presidente del centro AIS di Borgomanfria. Sono particolarmente grata oggi di ricevere questa donazione nel mio duplice ruolo, sia di socia fondatrice del Soroptimist Club, che è un club service che si batte per i diritti della donna, e sia come medico della direzione sanitaria. Abbiamo deciso, insieme alle nostre socie, di effettuare questa donazione per due reparti del nostro ospedale, l'hospice e il reparto di breast unit, che è la senologia. La consegna di oggi sarebbe dovuto avvenire già a marzo, se il Corriere non avesse sbagliato il tipo di mascherine ordinate invece dal Soroptimist. Abbiamo deciso di fare quest'atto di beneficenza nei confronti dell'ospedale, e non è una novità per noi, perché già all'inizio della pandemia ci siamo riunite per aiutare con dei fonti l'acquisto, favorire l'acquisto di una barella di biocontenimento, dei presidi sanitari che già sono stati donati all'ospedale. Di seguito poi abbiamo fatto un'altra raccolta fonti per aiutare i bambini appartenenti a famiglie bisognose. E poi appunto abbiamo acquistato le mascherine, che avevamo già pensato di prenderle già nel mese di febbraio, marzo comunque, però poi ci sono state delle difficoltà, erano arrivate ma non erano a norma, per cui abbiamo aspettato un po' di tempo ed eccole qua. L'iniziativa mira a garantire un ulteriore sostegno alle pazienti delle unità operative di senologia e dell'ospice. Il Soroptimist Club a dicembre aveva promosso in ospedale l'iniziativa Orange the World, tinteggiando una panchina presso il protosoccorso di Via Palazzi. La nostra Presidente ha contattato tutti noi soci per fare questa donazione, ma già il Soroptimist, come ha detto prima, ha fatto altre donazioni e ne continuerà a fare, e tante belle iniziative anche per le donne che hanno subito violenza e cose varie. È un club molto attento a queste situazioni che ci sono. Anche noi come Aias abbiamo donato, tempo fa, dei guanti e un disinfettante, perché è giusto che chi può deve fare.